Andiamo a riprendere Cristian, va! Vai! Figa, c'è passato davanti e non ce n'è neanche accorto Dov'è Cristian? Non c'è! Oh, come va? Eccolo qua! Sti! Stavo volando! Sti! Sti! Oh, ma quanto sta andando Cristian? Eh? Eccolo qua Cristian! Eccolo qua Cristian! Eccolo qua! Eccolo qua! Preso! Preso Cristian! Frena, 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 frena! Salto! Oh, 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 bello! Grande Cristian! Frena! Mi sa che c'è qualcuno dietro ma non capisco chi è Ah, è l'ingegnere! L'ingegnere ci abbiamo dietro, Cristian! Vai Cristian, salto, 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 salto! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Però sento Mattei! Sento Mattei che ce l'ho dietro! Mattei che mi spinge dietro! go! Destra! Salto! ho perso i pedali quindi frena un po' ho perso il ritmo vai giù giù che si salta salto salto e siamo pronti per l'uscita occhi all'uscita molto bene